Appuntamento dunque a sabato ed è stata invece la voce, la gran voce di Sherrita Duranna a risuonare nel chiostro di San Pietro per la rassegna Gubbio No Borders. Allora ascoltiamola in questo servizio di Stefania Fanfili. Soprano acrobatico, una forza della natura, Sherrita Duranna, così definita dal critico musicale Mario Luzzatto-Fegiz, ha tirato fuori tutta la sua energia vocale nel chiostro di San Pietro in occasione di Gubbio No Borders. Insieme al suo gruppo It Jam e alla corista Deviana, ha riproposto i brani delle più grandi artiste internazionali, pilastri femminili della musica nera, attraverso blues, soul, rock e funky. Da Aretha Franklin a Tina Turner, da Gloria Gaynor a Chaka Khan, ma anche pezzi del suo ultimo album, Time of the Butterfly, uscito cinque mesi fa. Voce calda, timbro morbido, tecnica, a cui si aggiunge una notevole estensione, questi gli ingredienti segreti della Duran, che può permettersi di spaziare tra i diversi stili musicali. E questa sera il programma di Gubbio No Borders prevede lo spettacolo Battisti a Flogged di Giorgio Ricci. E sulla voce di Sherrita Duranna si chiude questa edizione, prossimo appuntamento alle 22.45, grazie per averci seguito, ora c'è il meteo. DG Reggio